Quante volte avete sentito qualcuno dire c'è una notizia bella ed una brutta? E' così in casa Cosenza perché ci sono due notizie, altre in arrivo, ma soprattutto la necessità di fare chiarezza. La notizia positiva è l'arrivo con tanti d'ufficialità del centrocampista Curfalidis, proviene dal Cagliari, e per lui un accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Prima di passare alla brutta notizia, un aggiornamento sull'affare Tutino. L'attaccante Campano diventerà a breve un giocatore della Sampdoria, sta raggiungendo Genova ed ha già svolto le visite mediche a Villa Stewart. Dunque a breve il Cosenza incasserà dei fondi da rinfestire sul mercato, l'affare si aggira attorno ai 4 milioni, la dirigente Rosso Blu quindi potrà ora pensare a rafforzare la squadra con almeno 4 innesti di categoria, un difensore centrale, un esterno, un centrocampista ed un attaccante. La notizia brutta la si conosce già, è relativa al deferimento del Cosenza. Lo spettro penalizzazione aleggia e non fa dormire sono tranquilli ai tifosi, ma un deferimento, bene chiarirlo, non equivale ancora ad una condanna, quindi ad una penalizzazione. La società nelle sedi opportune farà valere le proprie ragioni e successivamente il Tribunale federale prenderà le proprie decisioni, ancora però è presto per parlare di penalizzazione certa. C'è da dire che le vicende passate fanno paura e gli umori della piazza Cosentina, che proprio in passato, ha subito anche dei fallimenti e retrocessione d'ufficio, sono condizionate da tali ricordi, ricordi che hanno riguardato anche altre piazze, ma la realtà al momento è ben diversa e parla solamente di un deferimento e di un percorso che è appena partito e che non è ancora scontato debba finire con una penalizzazione.